È solo un brutto ricordo ormai, ma le vicende giudiziarie l'hanno riportata alla luce, stavolta per una giusta causa. Parliamo delle sondazioni del fiume Tronto, avvenuta il 10 aprile del 1992. Un evento tragico che, pur non registrando nessuna vittima, sconvolse tutto il territorio, provocando miliardi di danni all'economia locale. La richiesta di risarcimento da parte del Comune ha attraversato negli anni tappe giudiziarie burascose. L'avvocato Francesco Voltattorni ha ieri ricostruito il mosaico della vicenda. A quel tempo, in primo grado, fu giudicato responsabile dell'alluvione l'ingegner Vincenzo Mattiolo, funzionario del provveditorato alle opere pubbliche di Ancona e progettista della sistemazione degli argini del fiume Tronto. I nuovi argini da lui progettati erano stati infatti posti a distanza inferiore rispetto a quella esistente, restringendo a 70 metri l'ampiezza del letto del fiume. Questo provocò un effetto imbuto che diede vita alla fuoriuscita delle acque nelle campagne della vallata, raggiungendo il centro abitato di Portodascoli. Mattiolo fu condannato in primo grado a risarcimento dei danni subiti da cittadini e imprese. I legali dell'ingegnere fecero appello e, con una sentenza che Voltattorni ha definito clamorosa, vennero condannate le parti civili e Mattiolo assolto. Seguì il ricorso in Cassazione, che annullò la sentenza della Corte d'Appello e rinviò la decisione al Tribunale di Perugia. Dulcis in fundo, lunedì scorso, nonostante il reato fosse estinto per prescrizione, l'ingegnere Mattiolo è stato nuovamente condannato a risarcire tutti i danni. Grande soddisfazione quindi per l'avvocato Voltattorni, ma anche per Roberto Alessandrini e Raffaella Cardola, rappresentanti legali di cittadini e aziende colpite dall'alluvione. «È davvero una bella notizia», ha commentato il sindaco Gaspari, complimentandosi con il difensore del comune. Ora partirà l'azione risarcitoria, anche se, secondo i termini legali, l'accusato potrebbe nuovamente ricorrere in Cassazione. Una cosa improbabile, secondo l'avvocato Voltattorni, che ritiene felicemente conclusa la vicenda.